Sua altezza reale, il principe di Piemonte, ricevuto dal ministro delle comunicazioni, sua eccellenza Benni, ha inaugurato il tratto superiore della punivia del Brei, che da Plan Maison a Plan Rosa raggiunge l'altezza non mai superata prima d'oggi da opere di tal genere, di ben 3500 metri. Questa arditissima creazione dell'ingegneria italiana servirà a mettere in valore, dal lato turistico, una delle zone più meravigliose delle nostre Alpi, dominata dall'impervia piramide del Cervino. Grazie a tutti! Grazie a tutti!